Come aumentare un basso numero di piastrine. Un basso numero di piastrine, medico noto come trombocitopenia, è un disturbo di salute in cui il sangue ha un numero inferiore a quello normale di piastrine. Le piastrine sono la più piccola delle cellule del sangue che aiutano nella coagulazione del sangue formando tappi nei buchi dei vasi sanguigni. Le piastrine circolano nel sangue con una vita media di 5 a 9 giorni. Un normale contapiastrinica in una persona sana varia da 150.000 a 450.000 piastrine per microlitro di sangue. Quando il conteggio è sotto 150.000 per microlitro, è considerato un basso numero di piastrine. Ci sono tre possibili cause della bassa contapiastrinica. La presenza di piastrine nella milza a causa di cancro o malattie del fegato gravi. Questo provoca una diminuizione del numero di piastrine in circolazione. Ridotta produzione di piastrine a causa di leucemia, alcuni tipi di anemia, infezioni virali, esposizione a sostanze chimiche tossiche, farmaci chemioterapici, consumo di alcol e carenza di vitamine come la vitamina B12. Aumento della ripartizione delle piastrine a causa di malattie autoimmuni, reazioni ai farmaci, infezioni batteriche nei problemi di sangue, la gravidanza e la salute come la porpora trombocitopenica e diopatica, ITP, e porpora trombotica trombocitopenica, TTP. I segni rivelatori di un basso numero di piastrine sono facili o eccessiva e chimosi, prolungato sanguinamento da tagli, sanguinamento spontaneo dalle gengive o dal naso, sangue nelle urine e nelle feci, ed eruzioni cutanee a causa di emorragie superficiali nella pelle. Le donne possono sperimentare i flussi mestruali insolitamente pesanti. Le persone con bassa conta piastrinica può anche lamentarsi di malessere, stanchezza e debolezza generale. Con alcuni cambiamenti dello stile di vita e alcuni facili da seguire rimedi casalinghi, è possibile migliorare rapidamente il valore del tuo piastrine e vivere una vita sana. Continuare a uno di questi rimedi fino a quando la conta delle piastrine è ripristinato alla normalità. Se il problema è grave quindi consultare il medico. Ecco alcuni modi per aumentare il numero di un basso di piastrine, naturalmente. Papaya Sia la papaya frutto e le sue foglie possono contribuire ad aumentare un basso numero di piastrine nel giro di pochi giorni. Papaya succo di foglie può aumentare la conta piastrinica di persone con diagnosi di febbre dengue. Mangiare papaya matura o bere un bicchiere di succo di papaya con un po' di succo di limone due o tre volte al giorno. Si può anche battere un paio di foglie di papaya, senza il gambo con un pestello e mortaio per estrarre il succo. Bere due cucchiai di succo di questo amaro due volte al giorno. Veatgras Veatgras può essere utile per aumentare la conta piastrinecca. In realtà, si può produrre un aumento significativo dei livelli di emoglobina, globuli rossi, globuli bianchi totali e conta dei globuli bianchi differenziali. Questo accade perché Veatgras è ad alto contenuto di clorofilla con una struttura molecolare quasi identica alla molecola di emoglobina nel sangue umano. Semplicemente bere uno barra due tazza di succo di Veatgras mescolato con un po' di succo di limone al giorno. Zucca La zucca è un altro alimento utile per migliorare la vostra bassa conta piastrinecca. È ricco di vitamina A che aiuta a sostenere il corretto sviluppo delle piastrine. Esso regola anche le proteine prodotte nelle cellule, che è importante per aumentare il livello di piastrine. In uno barra due bicchiere di succo di zucca fresca, aggiungere uno cucchiaino di miele e bere due o tre volte al giorno. Inoltre, includere la zucca nella vostra dieta con l'aggiunta di purea di zucca a zuppe, stufati, frullati e prodotti da forno. Spinaci Gli spinaci sono una buona fonte di vitamina K, che viene spesso utilizzato per contribuire a trattare il disturbo basso di piastrine. La vitamina K è necessaria per la corretta coagulazione del sangue. Pertanto, si riduce il rischio di sanguinamento eccessivo. Far bollire quattro o cinque foglie di spinaci freschi in due tazze di acqua per alcuni minuti. Lasciare raffreddare e mescolare in uno o due bicchiere di succo di pomodoro. Bere tre volte al giorno. Inoltre, godere di questa verdura verde in insalate, frullati verde, contorni o zuppe. Vitamina C Per aumentare la conta delle piastrine, è necessario aumentare l'apporto di vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico. Essendo un potente antiossidante, alte dosi di vitamina C prevengono anche i danni da radicali liberi mediata delle piastrine. Il tuo corpo richiede 400 a 2000 mg di vitamina C al giorno, a seconda della vostra età e la salute generale. Mangiare cibi ad alto contenuto di vitamina C, come limoni, arance, pomodori, meloni, kiwi, spinaci, peperoni e broccoli. Si può anche prendere la vitamina C in forma di supplemento giornaliero, ma solo dopo aver consultato il medico. Uva spina indiani Un rimedio aiurvedico popolare per raccogliere la conta delle piastrine è uva spina indiano, noto anche come LRD. La vitamina C in LRD può contribuire ad aumentare la produzione di piastrine e di rafforzare il sistema immunitario. Mangiare 3 a 4 uva spina a stomaco vuoto ogni mattina. In alternativa, mescolare 2 cucchiai di ciascuno di succo di amla e miele. Bere 2 o 3 volte al giorno. Si può anche mangiare marmellata o sottaceti fatti con uva spina indiana fresca fatta in casa. Olio di sesamo Questo olio spremuto a freddo è anche utile per aumentare la conta delle piastrine. Olio di sesamo ha proprietà che possono aumentare il livello delle piastrine, naturalmente. Esso riduce i danni dei radicali liberi, infiammazione nel corpo e aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. Bere 1 o 2 cucchiai di olio di sesamo alta qualità 2 volte al giorno. Si può anche strofinare un po' di olio di sesamo esternamente sulle aree linfonodali più volte al giorno per contribuire ad aumentare la conta piastrinecca. Inoltre, utilizzare olio di sesamo spremuto a freddo per la cottura. Barbabietola Mangiare barbabietola è un altro metodo dietetico popolare per aumentare la conta piastrinecca. Essere ad alto contenuto di antiossidanti naturali e le proprietà emostatiche, barbabietola può aumentare il valore del tuo piastrinecca entro pochi giorni. Bere 1 cucchiaio di succo di barbabietola fresco 3 volte al giorno. Un'altra opzione è quella di miscelare 3 cucchiai di succo di barbabietola in un bicchiere di succo di carota e bere 2 volte al giorno. Acqua Le cellule del sangue sono fatte di acqua e proteine, quindi si raccomanda di bere molta acqua durante il giorno. Quando si tratta di un basso numero di piastrine, evitare di bere acqua fredda in quanto può influenzare il vostro apparato digerente e il corpo non assorbire le sostanze nutritive in modo corretto. Invece, bere acqua filtrata e purificata che è la temperatura ambiente. Questo aiuterà il vostro corpo a produrre più globuli e, infine, migliorare la conta piastrinecca. Bere almeno 8 a 10 bicchieri di acqua a temperatura ambiente tutti i giorni. Esercizio L'esercizio fisico regolare aumenterà la circolazione del sangue, migliorare il sistema immunitario e portare a un aumento delle piastrine. Secondo il programma Transplant Leucemia Bonemarov of British Columbia, alcuni esercizi specifici possono aiutare ad aumentare i diversi livelli di bassa conta piastrinecca. Qui ci sono alcune linee guida. Se le piastrine sono 15.000-20.000, è possibile eseguire seduti o in piedi esercizi, stretching e camminare. Se le piastrine sono 20.000-40.000, è possibile utilizzare un po' di resistenza alla luce, come i pesi o tubi elastici o bande di lattice. Si può anche fare camminare a ritmo sostenuto. Se le piastrine sono 40.000-60.000, si possono svolgere attività come bicicletta stazionaria e golf. Se le piastrine sono al di sopra di 60.000, si può fare esercizio aerobico, come andare in bicicletta o fare jogging. Nota, evitare tutti i tipi di esercizi, quando la conta delle piastrine è inferiore a 15.000 in quanto può aumentare il rischio di sanguinamento. Ulteriori suggerimenti. Limitare l'assunzione di alcoli in quanto può ostacolare la produzione di piastrine nel midollo osseo. Inoltre, evitare di acqua tonica come il chinino in esso può contribuire alla diminuizione della conta piastrinica del sangue. Evitare di mangiare verdure crude quando la conta piastrinica è bassa in quanto potrebbe danneggiare il rivestimento intestinale. Invece, le verdure a vapore fino al morbido e poi li mangiano. Mangiare uno a due guaiave rossi quotidianamente per migliorare la conta delle piastrine. Gli alimenti che agiscono come depuratori del sangue come l'aloe vera deve essere inclusa anche nella vostra dieta. Evitare tutti i prodotti lattiero-caseari, tra cui latte, yogurt, formaggi e burro, per alcuni giorni come questi prodotti possono contribuire alla formazione di muco e peggiorare alcune malattie autoimmuni. Evitare cibi in scatola e trasformati che non offrono molte sostanze nutritive. Ottenere almeno 7 a 8 ore di sonno per notte per aiutare il corpo ricarica e produrre più piastrine. Mangiare cereali integrali, riso e prodotti integrali. Evitare di farina bianca, riso bianco e alimenti trasformati. Evitare attività che possano causare lesioni. Chiedete al vostro medico prima di assumere farmaci OverTech o Hunter, come alcuni farmaci possono influenzare la funzione piastrinecca.